Buongiorno amici, oggi vi voglio parlare di una cosa che forse non è di stretta attualità ma è una delle mie passioni e forse poi non è in realtà così lontana da quello che stiamo vivendo. In questo momento sono fiume, Rieca in croato, è la città che esattamente 100 anni fa, il 12 settembre di 100 anni fa D'Annunzio invase o meglio occupò, dando vita alla reggenza del Carnaro. È stata un'impresa molto molto studiata, è stata però sempre vista o quasi sempre vista e letta come un'anticipazione del fascismo e questo è vero solo in parte, soprattutto perché il fascismo Mussolini prese da D'Annunzio gli slogan, il modo di fare propaganda, il discorso dal balcone e così via. In termini ideologici invece la carta del Carnaro segna una distanza netta dal fascismo regime. è più simile invece al fascismo delle origini del Sansepolcrismo, anzi la costituzione del Carnaro, la carta del Carnaro fu scritta da D'Annunzio insieme al Ceste de Amris che era proprio l'autore del programma dei Sansepolcristi. Comunque non vi voglio parlare dei rapporti con il fascismo, c'è un libro appena uscito si intitola Il disobbedisco di Giordano Bruno Guerri che è il presidente del Vittoriale che spiega benissimo quali furono i rapporti, poi ci sono altri studi di De Felice e di moltissimi altri. Ma in ogni caso io vi voglio parlare di un'altra cosa, questa fu l'occupazione di Fiume, fu anche un momento di libertario perché qui affluirono artisti, avventurieri, Guido Keller, Comisso, tantissimi altri che qui sperimentarono un modo di vivere contemporaneamente reazionario per alcuni versi e rivoluzionario per altri e sicuramente libertario sulle scelte personali. Guido Keller, ad esempio, era bisessuale, nudista, faceva uso di cocaina, era uno spirito libero, era un grande avviatore, è stato un eroe della Prima Guerra Mondiale, è stato anche il principale artefice insieme ad Annunzio dell'impresa di Fiume. Ora, quello che volevo dire, e concludo questo post, forse un po' assurdo, ma c'è una cosa molto interessante. Questa fu l'occupazione di Fiume, avvenne perché c'era il mito della vittoria mutilata, cioè la Prima Guerra Mondiale era stata vinta dall'Italia, ma l'Italia non aveva avuto quei vantaggi territoriali che si aspettava. Fiume, quindi, alla fine fu dichiarata dal Trattato di Rapallo città libera, ma invece i dannunziani volevano che fosse una città italiana, o meglio, addirittura volevano che l'Italia fosse annessa a Fiume, più che Fiume annessa all'Italia, perché l'Italia aveva bisogno delle regole e delle leggi che l'Annunzio scrisse nella Carta del Carnale. Quindi, fu un'impresa nazionalista? Certamente sì. Ma che tipo di nazionalismo era? Se si vanno a leggere i documenti legati all'ala rivoluzionaria del fiumanesimo, scopriamo che l'idea di nazionalismo che avevano questi signori è molto, 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 molto diversa dall'idea di nazionalismo che entrerà poi in auge successivamente. Questi uomini erano convinti che il risorgimento fosse stata una cosa giusta, ma realizzata nel modo sbagliato, perché aveva soffocato le libertà degli stati italiani allora esistenti, di cui, peraltro, la popolazione aveva osservato la memoria, e tutt'oggi ancora la serba. Quindi la ricchezza dell'Italia stava nella sua varietà e l'unificazione, l'unità fatta in quel modo, soffocava la varietà e quindi la ricchezza dello spirito italiano. Il nazionalismo, come lo concepiscono altri stati, era rifiutato dai fiumani, perché dicevano che era un prodotto del nord capitalista che gli uomini del nord capitalista avevano imposto gli italiani per colonizzarli e addirittura per avere, diciamo, una lingua comune che poi gli avrebbe permesso di colonizzare con l'economia l'Italia. E sapete con che cosa? Con una moneta. Infatti, se voi leggete Yoga, la rivista dell'avanguardia fiumana, la prima cosa che trovate nel loro programma è che la moneta deve assolutamente... Dicono, prima o poi l'economia sarà globalizzata, prima o poi gli stati del nord cercheranno di conquistarci con quello. Per stati del nord si intendono la Germania, la Francia, gli inglesi e gli americani, sostanzialmente. Ci colonizzeranno con l'economia e la loro chiave, diciamo, principale, per batterci, lo strumento principale, sarà la moneta. Quindi, dicono i fiumani, innanzitutto, che la moneta rimanga nostra, altrimenti la libertà, prima o poi, la perdiamo. Quindi era un nazionalismo completamente diverso, perché prevede un'ampia autonomia per tutte le regioni d'Italia, cioè per gli antichi stati d'Italia. È un nazionalismo che non ha niente a che spartire con quello, appunto, degli stati del nord. Inoltre, avevano delle idee, forse, bizzarre, aggiudicare da quello che è successo, forse non tanto così bizzarre, però. Ovvero, l'Italia era una nazione, un popolo, gli italiani, lo spirito italico, diciamo, era adatto a coltivare la terra, a pescare e a commerciare. Non era adatto, invece, all'industria pesante. Questi sostenevano che l'industria pesante, trapiantata in Italia, sarebbe, prima o poi, scomparsa e avrebbe condotto alla rovina il paese. Perché noi siamo un paese di artigiani, piccoli imprenditori, commercianti, e così via. Forse nella vicenda di Fiume, a parte tutto il resto, il colore, la carta del Carnarro e tante altre cose, a parte tutto questo, forse nella vicenda di Fiume c'è qualcosa da capire e da imparare, che ci insegna qualcosa anche sull'epoca in cui stiamo vivendo. Del resto, questi erano dei sognatori, i sognatori a volte vedono il futuro.